Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Nei giorni scorsi Xi Jinping, presidente cinese, si è rivolto direttamente a Vladimir Putin, presidente russo, con le seguenti parole Russia e Cina unite per garantire stabilità e pace. Si tratta di un evento epocale in realtà, o meglio, della tematizzazione di un evento epocale già in essere da diverso tempo. Alludo cioè alla cordiale intesa fra il dragone cinese e l'orso russo, un'intesa che davvero è in grado di mutare le sorti del mondo. Sembrava, secondo il teorema di Francis Fukuyama, che la storia fosse finita con il 1989, che il mondo intero si avviasse alla sottomissione, alla potenza della civiltà del dollaro, secondo la fine capitalistica della storia, e invece la storia si è rimessa in movimento con buona pace di Fukuyama. Russia e Cina insieme stanno creando operativamente un nuovo ordine multipolare sottratto all'imperialismo di Washington e anzi resistente, ha detto imperialismo. Sotto questo riguardo si potrebbe dire che la storia non procede come le palle da biliardo sul tavolo da biliardo, non procede in maniera cartesiana e geometrica, è più simile, secondo la bella immagine di Robert Musil, all'andamento delle nuvole che si spostano secondo traiettori imprevedibili. Possiamo ben dire che abbiamo bisogno più che mai oggi di una Russia e di una Cina forti, autonome, sovrane, militarmente attrezzate e soprattutto unite per resistere insieme all'imperialismo di Washington e per delineare un possibile mondo multipolare alternativo rispetto a quello finora dominante. È di massima importanza che Russia e Cina insieme riescano a guidare un'opposizione globale all'imperialismo della civiltà dell'hamburger. Grazie a tutti.